benvenuti a una nuova puntata di fatte dan cool cinque minuti che si evolvono di volta in volta vi volevo dire che so bene so bene e sono in ferie quindi non sto facendo questi cinque minuti da un po di tempo so che sentirete sicuramente la mia mancanza è vero e quindi ho pensato di farvi un piccolo 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 avviso così che non vi dimenticate ma soprattutto vi rassicurate del fatto che va tutto bene dietro di me c'è un ramo special guest e una mia grandissima creazione grandissima creazione che mi riconduce a tanti eventi della mia esistenza e su questa grandissima creazione si chiama ciamo a età sezione c perché è riferito a quella storia della sezione aurea che tutte le forme insomma della natura poi si risolvono in questo in questa sezione aurea che tutti conosciamo vero poi vi volevo far vedere anche che ho imparato qualcosa con l'ukulele questo è un ukulele per chi non lo sapesse mi chiamo gigetto so del tuffello me levo le caccole e me le metto nel barattoletto poi me le mangio una ad una mentre in cielo sale la luna spero che vi sia piaciuta presto novità dal fatte da un cool team imperdibile guarda non vi voglio anticipare niente questo già è stato troppo vi abbraccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti